musica 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 e sono ragazzi siamo qui su War Robots musica 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 ma non diamo, non c'è la mia ammuro, non c'è la mia ammuro, non c'è non c'è un sacco, non c'è un sacco ok, si fa, non ho provato, non ho dovuto capire C'hai giudato? Mettai... ...in un'altra parte. ...e' giudato. ...e' giudato. Adoro. ...e' giudato. 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 Desde. ... non sto andando nemmeno male già io ho deciso già due roba tutte le famiglie ragazzi io non sto capace di giocare che si gioca non è vero non è vero però di scherzo ah boh ma che non sto giocato però di scherzo è vero guarda lo quasi fottuto guarda scappa 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 non ti ha bottato no ma vi lo vede e te ne ha pure putta fuori e non l'avevo visto ne ha pure putta a mero guarda non ha bottato una po' scappa ma guarda non ha bottato una po' scappa ma guarda non ha rimesso uno su una scarica una scarica muovo via non ha fatto pangu tu che mero se l'hanno fottuto visto qua io ero morto è un buono tanto muovo fottuto e una scarica a meno tutto quanto sai quando hai mezza vita mamma mia c'è di mezza vita visto è buono muovo quando sei cominciato oh ho fisichino in alto qua un po' però questa come stai facendo qui lo metti tre potremmo no ci metti una d'arma no questo è del med medico ora questo arriva no ho visto la 300 e qualcosa come un'armicolo l'ha visto di polino ma è leggera tu allora no questo arriva nel 5g nel medico questa qua questa qua va bene vabbè rubi 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 adesso però attaccano pure questo video ce l'ha nascosto io ho già combinato è molto molto fretta ora arriva qua è molto così lo vado qua ora non è molto se l'ha nascosto stai aspettando un po' stai ammagrino vai mu 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 c'è ma come sta ma ti senti perdita no c'è no mi hanno messo un buone prova io già non ho deciso sta ma come sta io ho inizio qua non ma meno no no metti l'altro retto ok metti l'altro retto ho inizio qua ma ti ti spavate ma hai chiuso la sei ormai hai chiuso che vuoi vado si ma aspetti vado 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 ma si, sono stati scatti BOOM, mua Vidi, vedi, arrede 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 un'un' array Sì, no, ho visto no, 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 si l'nossi, lo ha visto qua un array Pucca, mi sto chiedendo qui a te è detto che... ah boh, questo è scarsissimo no... ma c'è la nicola non è che un rapporto è rimasto corretto c'è nato come ho messo eh cosa faccio? no non lo faccio io sono io non lo faccio non lo faccio guarda guarda quando io ho fatto non lo faccio 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 guarda non lo faccio si lo faccio non lo faccio non lo faccio dai subito dai 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 no c'è qui dai 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 non lo faccio è forte ma non lo faccio troppo non lo faccio 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 e la mia che cosa ha fatto è così Valla Ustai atteggrestando troppo Lissimi, inseri, inseri, inseri.. Ah! È possibile che non gli stai, non gli stai Dai, però mostro di un adissor a tutti, va? Dai di Femmelo, 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 vui Noi, ne vediamo Ok, va, va.. che non il non 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 un pannello ma non ho mai messo qua stai in all'inistro perché quello mi ha fatto l'anno quindi non ho mai messo la moto ormai non ho capito questo è il 27 è il digitore un altro che ho mai messo tutto abbastanza è proprio una scelta di window hai vinto ho vinto il primo 661 mila un record 10 oggi ho fatto più conquiste e più uccisione abbiamo fatto 2 conquiste 3 conquiste guarda ho fatto per tutti non ce n'è per nessuno ce n'è per nessuno ci ho guadagnato tutti i soldini e magari ho guadagnato pure le medaglie buono buon e basta ho iniziato a 10 minuti non 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 getting via